Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video molto particolare Prima di iniziare a lasciarvi direttamente al video ci tengo a chiedervi due cose La prima è di passare dal canale di Fabio e dal Twitch di Joe Che sono i ragazzi con cui ho registrato questi video di Mario Kart Anche perché in particolare sul Twitch di Joe abbiamo streamato la registrazione del video E quindi avreste potuto vedere gli uncut E in generale lì molto spesso sono in stream Quindi mi raccomando passate dal Twitch di Joe ma anche dal canale di Fabio E poi vi chiedo visto che è Mario Kart e visto che praticamente nessuno vedrà questo video Essendo che ho fatto Pokémon per 4 anni Se voi che avete visto il video, se voi che state per vedere il video Lasciate un mi piace e mi fareste davvero contento Perché questo video avrà dei numeri irrisori e ci ho messo 400 anni a editarlo Quindi mi prego salvatemi Detto ciò io però non vi rubo ulteriore tempo Vi lascio questo video che seppur breve spero che vi possa divertire Bella O comunque non vorrei dire Joe ma il tuo primato qua mi sembra abbastanza scadente Visto che... Dio Ah Fabio tu sei l'acchietude Ci ho entrato io con la banana scusa Ma io spero ti venga un tumore durissimo Dai 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 sei zitto che faccio più visuali Io con un video su Spoink che tu su Brawl Stars Dai stai zitto Sì ma sono vicino e c'ho 800 iscritti zio No neanche 720 Tu ne hai giro io però c'ho 7000 Tu ne hai 17.000 Cioè ci rendiamo conto Certo gli 800 iscritti che hai tu sono i miei 800 attivi intanto Sapete cos'è? Sapete chi è inattivo? La vostra presenza in questa gara Cristo Dio sono primo in svegliato Io sono settimo Ottavo... undicesimo? Interessante Figlio di puttana Godo come un animale L'inglese mangia merda Figlio di Troi mi ha lanciato la bomba in da face Da face bro Nella fessa Nella fessa Ieri ho trovato Ieri ho trovato Raldio in lobby Ho trovato Raldio Ma raga ma i miei sono normalmente obesi O è solo il fatto che abbiamo la tuta da gara che ci rende obesi? Ma scusa un attimo Fai uno zoom su Anna dei Cappelli Rossi con la Barba Rosa Ma pigliati questo testa di cazzo Bello sto banana da settimo Soffri Niente io raga sono riuscito ad arrivare non dopo che Fabio mi ha fatto saltare in aria Te lo meriti puttana Ah raga E' finita Ho preso dei gressini Madonna io me lo sono già messo in culo più volte Come il guscio che ti ho lanciato No vabbè ho capito Non ho capito Sono fuori Sì no beh dai tutto così Ma non lo so ma dai Ma non lo so ma basta Ma basta Ma che cazzo Ma sono famoso sto registrando Ma no Ho i soldi da fare cazzo Devo arrivare a quota 4 sub su twitch Scherzi Che cazzo E dai Anche sto mese c'ho il caffè Mi viene a romper il cazzo Che testata che ho provato Maschiata scemo Ma vittor Ma ti Maschiata scemo Oh zio ma io ho fatto Avevo usato il coso Come è possibile Cioè ragazzi 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 Sono tre gare che rivottavo È entrata con la bestia di 7 metri Con capiti bianchi Che schifo Porca broia No fighe i pisali Sono veramente buonissimi Sono riuscita a vincere Figo Ma raga guardate quanto è brutto Quello schifo Oddio Ma cos'è Che schifo Ma fa un fottio paura C'è pure le caccole verdi Che gli escono dal naso No 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 Puttà Chi ha lanciato quella bomba di merda Io fra Ma ti venisse un tumore delle palle No fra Sta puttana Mi sono andato a stampare a zii che mi ha colpito così Bene perfetto come iniziare il terzo giro Ma tu cosa sai? Yoshi? Si Yoshi Ho preso un guscio fermo Guarda daisy che esplode Deficiente cronica Ora siamo a 200 cc Vamos Ma che cazzo dici Ma sono uscito fuori pista a 22 volte Non capisco niente Non capisco niente Grazie al cazzo Brutto scemo Ho preso un sasso Dai ragazzi Ma mi ha schiacciato un ciccione Minchia ragazzi Usare il fungo regina in 200 cc È praticamente farsi di codeina Troppo tardi È arrivato il primo Ma siamo già al terzo giro zio Si Come vola il tempo Quando ci si diverte Minchia ragazzi Quinto a caso mangiando una gente Va bene Oh grandi raga Undicesimo È bella Unicesimo Comunque ti dico un segreto Si tu vai in palestra e tutto Però Il corpo È definito da quello che mangi È dalla tua educazione alimentare Ma sei veramente bravo Non l'avrei mai detto Cazzo Lauleato Dottore Posso volere dei cazzo di muscoli Abbi un po' di pazienza Arriveranno 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 Terzo No 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 ti prego ti prego ti prego Non quarto quarto Ah non è finita Cazzo ok va bene Questa sarà Questa sarà tutto in bianconero nel video Quindi Ma vaffanculo Ma ho troppato una banana sul pisello Ma io non ci credo Oh Gio Bado Gio che sei il decimo Vieni qua a giocare un regolino Gio non mi rompere Ah 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 Vorrei vorrei che tu morissi Gio Puoi esaudire questo mio desiderio Per piacere Decimo perché Perché un coglione Mi è venuto in culo col razzo Ragazzi Barack Obama E beh E quello bassissimo Vestito di rosa Scusate Le cazze Lo voglio adottare Proprio bello Essere prima Ricevere un guscio blu No Gio ma perché Ma perché Dai Nadio Cazzo piangi Troia Non c'ho cuore Il suo gioco Io Ma non ci credo Quinto Ma potevo arrivare primo Ma che vergogna Staccato è sta rec di merda Grazie a tutti